Un saluto a tutti e benvenuti in uno speciale dei 1000 iscritti Grazie veramente ancora per questo traguardo assurdo che non mi sarei mai aspettato Un vostro utente, Goku Kakarot, mi ha considerato anfermario E quindi ho deciso di farlo per lo speciale dei 1000 iscritti Mi avete detto che come gioco è molto difficile, io ho iniziato a giocarci un poco Bene, iniziamo Tra l'altro non mi ricordo proprio come sono i livelli perché l'ho fatto un mesetto fa Infatti non mi ricordo assolutamente Allora, cosa c'è dietro? Passa questi blocchi da sopra, se dobbiamo fidare? Io non mi fido, ho fatto bene Allora, vabbè dai, non posso morire così Allora, voi mi avete consigliato sto gioco E io ho deciso di farlo Per pazzia Ok, checkpoint finalmente Già Maledizione Allora, mi devo concentrare Sì 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 E il primo livello è andato, perfetto Aia Ok, watch out Ok Non caderci dentro Beh, non mi... non mi... non ci provo perché tanto se cado dentro non penso che si vada in un passaggio sotterraneo Ok Ah, maledizione Sì No Madonna Sì, checkpoint C'è, c'è, sì Cosa serviva quello? Bene, andiamo Oh, caspita No, vabbè Riprendiamo Ok, cercherò di non farla cadere altre volte prima che si rompa definitivamente Anche se ne possiedo un'altra Solo che non mi piace perché c'è un microfono che... Non... non si sente tanto bene Quindi non preferisco usare questa Anche perché i video con questa macchina fotografica non sono di grandi dimensioni Quindi potrò... potrò schercare per molto tempo Ho sentato a perdere molto tempo visto che... Oh, cavo... sì Sono un coglione Mamma mia Allora, questo è stato il primo gioco che mi avete consigliato Ovviamente mi dovevate consigliare proprio questo, è vero? Non mi potevate consigliare qualcos'altro? Comunque, se avete qualche gioco da consigliarmi Diverso da questo Ditemelo Che lo faccio Sì? Ma il checkpoint l'ho preso, vero? Ok, di chi mi devo fidare? Ora Questo Ok Ora vado qua Ora qua Che culo assurdo Perfetto Dove vado? Su, giù, se ci arrivo Cioè, ma non... Cioè, non è com'è che... Ma... cioè, che tu Mario Non... Non è niente di confronto Perché tu anche se superi un ostacolo Poi morirei con un altro ostacolo che hai superato Che hai già superato Dove vado? Sopra o sotto? Dove vado? Sopra o sotto? Vado sopra? Sì Che culo Maledizione Ho visto il video di Fabi G Solo che non mi sto assolutamente ricordando Vado da sopra No, no, ci devo provare Ah, perfetto Passa molto strozzo Vado qui Madonna mia Dai, che sono le ceneri oggi Altrimenti avrebbe stimolato di più, eh Come dovrei fare, scusa? Oh mio Dio Oh mio Dio Che culo assurdo Non mi succederà mai più Per fortuna ho visto i video di Fabi G Mi ricordo Ma mi inganni stavolta Perfetto Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Incredibile Incredibile È incredibile Sì, è incredibile Incredibile quando ce la faccio Perché sono morto? Scusa Cioè, ma me lo spiegate Ci metterò mezz'ora Non è come che tu capisci le trappole Cioè, se ne sono Ogni secondo ne trovi una È impossibile Cioè, non è che è impossibile Però ci vuole veramente assai a capire Quindi in caso di Di perdita eccessiva di tempo Ritoglio il video, ovviamente Per esempio Lo so che lo ritaglierò in questo punto Di questo maledetto livello Finalmente ce l'ho fatta Continuiamo Sì Sì Cavolo Se quello là mi prendeva Mi toccavo con le spine Dovevo ricominciare da capo Ok Oh mio Dio Ok Ok, finora ho capito Devo saltare Fino a quando non trovo i cosi Ok Poi devo scendere così Bellissimo Bellissimo Il cavolo Ok Come dovrei fare? Non posso salirci sopra Allora forse dovrei fare così E poi così Ce l'ho quasi però Ok 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 Devo fare con calma Altrimenti cerco di perdere Altrimenti rischio di perdere Più tempo del previsto Ok Ok Lo sapevo pure che la si cadeva Che qua devo aspettare tre ore Non voglio Si 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 Finalmente 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 Ok Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Si No No Porco Vabbè si Arriviamo a 200 Già che stiamo Ok Ok Devo andare al primo Devo andare al primo Si Ok Finalmente Ah si Eh perfetto Ok Sotto 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 Poi sopra Poi nuovo sopra E poi sotto Ok Finalmente ce l'ho fatta A finire con il livello impossibile Ho provato a fare anche questo E per non perdere tanto tempo Ho capito che si va di qua Non vi preoccupate Ho bestemmiato anche parecchio Per questo livello Perfetto E il decimo Non l'ho ancora fatto Ok Perfetto Allora Credo che si vada di qua Devo fare un super salto Ho finito il gioco Finalmente Cavolo Vediamo cosa succede Com'è Premi spazio Va Vabbè ragazzi Ce la concludo qui Spero che questo Questo gioco Comunque vi sia piaciuto Se avete qualche altro gioco Potete sempre consigliarlo Spero che Grazie Grazie mille a tutti Per Per i miei iscritti Spero che questo video Vi sia piaciuto Anche per tutte le Bestemmi che ho fatto Ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Ciao